buongiorno a tutti siamo qui oggi di mattina sono le 7 10 riprenderemo con la nikon p 900 la nostra bellissima venere adesso facciamo un bello zoom e vediamo dove riusciamo arrivare ma così siamo a 2000 mm con un telescopio da una focale di 2000 con la nikon p 900 riusciamo a sfruttare il digitale arrivare a 4000 mm e adesso andiamo a zoomare ecco a voi venere che se ne vuole andare per me è uno spettacolo a occhio nudo sembra una stella ma in realtà è quello che si vede adesso all'interno della fotocamera a me deve stare prendendo il video invece se torniamo indietro non è una stella ma in realtà è un'altra 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 ma